A dirigere l'incontro di questa sera, sono il primo arbitro Marco Zavater di Roma, grazie e benvenuto. Il secondo arbitro, Antonella Verracina di Roma, grazie e buon lavoro. Il terzo arbitro, Bruno Frappicini di Falconara Marittima, al videocheck c'è Marco Berotti di San Benedetto del Tronto, il segna punti è William Violini di Ancona. A tutti un buon lavoro per la partita di questa sera, andiamo a vedere i sestenti iniziali delle due squadre, naturalmente iniziando dagli occhi della pallafono, Padova. In campo con il numero tre Andrea Canella, il numero otto Davide Saita, il numero dodici Lucia Petkovic, il numero quattordici Ram Takashi, il numero quindici Matisse Desmet, il numero ventidue Federico Crosato. Il numero con il numero tredici Julian Zenger, il lettore Jacopo Cuttini, il vincere il lettore Matteo Trolese. Signore e signori, arrivano i nostri ragazzi, li accompagniamo. Noi siamo Lupe, con il numero uno Camille, con il numero nove Ivan, con il numero dieci Martemi, con il numero quindici Capitano Lussiano, con il numero diciassette Simone, con il numero ventuno Mattia, il numero con il sette Fabiano, l'allenatore Gian Lorenzo Chico, il legge allenatore Romano, l'allenatore Romano, l'allenatore Lucia, il pienso di